In occasione del quarantesimo di fondazione, a nome della comunità trevigiana ho il piacere di consegnare il presente attestato da Antena 3 Nord-Est quale ringraziamento per l'importante presenza nel territorio e per la capacità di raccontare la città, vivendo la sua trasformazione a fianco dei trevigiani e documentandone l'evoluzione con serietà, professionalità e impegno e per il fondamentale e qualificato servizio di informazione a favore dei cittadini, unitamente i programmi di approfondimento, valorizzazione e recupero delle tradizioni e di cultura. Grazie per essere la televisione di tutti i trevigiani. Con stima, Mario Conte. Grazie mille. 40 anni di informazione, 40 anni di storia, 40 anni di presenza sul territorio, da Treviso a tutto il Nord-Est. La sorella maggiore del gruppo Media Nord-Est ha soffiato sulle 40 candeline. Dopo il prestigioso riconoscimento della città di Trieste per Tele4, altra punta di diamante del gruppo, arriva a quello della città di Treviso per Antena 3. Un riconoscimento consegnato questa mattina dal sindaco Mario Conte all'editore Filippo Iannacopulos, una pergamena ma anche la targa della città di Treviso. Antena 3, l'emittente che ha dato voce a generazioni di cittadini crescendo con loro, analizzando i cambiamenti di un territorio profondamente cambiato da quando gli studi erano al diciannovesimo piano del Grattacielo di Via Pisa. Un riconoscimento, quello consegnato oggi, che potrebbe essere l'antipasto di un altro premio, il Totila d'Oro, per il quale Antena 3 è candidata e che andrebbe a coronare i 40 anni di attività nell'informazione. Queste celebrazioni dei 40 anni dureranno un anno intero, quindi dal punto di vista di Antena 3 abbiamo messo su una trasmissione che racconterà la marcord di quello che eravamo, di come siamo stati per 40 anni e andremo avanti tutto l'anno con eventi speciali, quindi è un anno di festa che ovviamente deve essere un anno di festa per tutti i cittadini se vogliono celebrare con noi, perché alla fine i viri protagonisti sono loro.